Ciao ragazzi e bentornati con l'ultima parte di Strange Brigade, l'ultima parte del gioco base Ok, vi faccio vedere, campagna, e appunto noi siamo arrivati qua, questo qua è l'ultimo livello del gioco base Questi qua invece sono i DLC che vedremo anch'essi, ok Piramide, eh si, vabbè, apostole, questo qua è giudicato, perfetto, conferma Impostazione al personaggio, allora vediamo cosa possiamo comprare Intanto che abbiamo un personaggio che mi ha rotto le balle, questo qua, pelle dure, movimento veloce Aura dell'anima potente, che vuol di? Super colpa alla testa, potente, ricercatore di segreti, questo qua sarebbe interessante da provare Carica bomba più veloce Ah, buono Allora 32.800, non è abbastanza, eh Mettiamo di nuovo questo Questo qua sarebbe da comprare, pistola mitragliatrice Ah, no, 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 aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, 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 e come granata Granata, troppo e molto, piccicoso, dinamite, mina di terre Granata fulminante Granata a grappolo Danni Danni Portata esplosione, portata esplosione Mettiamo questo dai 45 secondi e 30 Eh no, cavolo, lasciamo questo Allora Aspetta, 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 cosa ho visto, cosa ho visto? Altene skin Ah, ok Mettiamo questo dai Perfetto Partiamo con L'ultimo livello La fine di tutto Qua dovremmo avere Il teore da battere Seki Setechi Scusate Setechi La super mummia Che ci ha rotto le balle Per tutti i livelli Ma dandoci addosso Tipo miliardi Miliardi di nemici Comunicazioni cut off Nuestri eroi Trovano in L'astro Plane Of the afterlife Truly This Is there Strangest Adventure yet Oi lala What's that Mortals Here You dare Intruder Into this Sacred realm You will Know pain Eternal Blime Vediamo quanto ci mette a ricaricare In teoria dovremmo metterci un po' meno Dato che la carica bomba Per l'appunto più veloce Vabbè Vedremo dai Ah quegli altri Quegli altri Praticamente Avevano la pelle dura Come coso Come secondo potere Infatti avevano una barra della vita in più Che questa non ha Eh Mi lasciano appena accorto Ok Ok Oh Ok Oh No Ok 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 Oh oooookay la c'è un altro casser che botti poca la c'è un'altra la brigada estrangea sembrava s'ilvente a loro fiendes buona show direi oh, full charged fantastic What? Mi sa che ho un amuleto strano addosso Già Già Interessante Molto interessante Vabbè Ci deve essere qualche modo per raggiungere quello lì che io non ho compreso a quanto pare Se vado giù di qua No? Cavolo Boh Vabbè Te ne trasporto? Vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto Già Ok Ok Au Ho idea che qui i gatti non ci siano No dai Ci saranno anche qua È molto strano Ma Chissà cosa avrà voluto dire 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 No Bîmto ok falco credo si va bene un'arena astrale che interessante cos'ho sbloccato sparando lì apparentemente niente però mi sa che c'è qualcos'altro da fare o no tutto molto strano ah ok forse è quello lì ci deve essere qualche altro ah questo forse ah ok ce n'è voluto però la pin ci sono riuscite bene uh quante monete asti apparentemente quante monete ma in realtà a conti fatti niente di che eh niente di che gemma del sole no quella lì mi sa che è quella che aumenta i danni perchè è la prima volta che la vedo se non erro interessante un'arena anche qua incredibile ma vero mi erano sfuggite ok siamo pronti siamo pronti siamo pronti avanti seteki il boss dei boss wow che figata cazzo è bellissimo cazzo cazzo Sugli occhi Gli fa particolarmente male Vabbè ma è prenderlo sugli occhi Au Beh con calma dai Cazzo Ui lala Ok And now Stand clear, Strange Brigade No telling what damage it can do when it's angry Lord, the power of those punches That lighten through any door Aha Vabbè ho capito bene a lora Poverine Cosa io hai fatto Si si Ciao ciao amici Au revoir Au revoir Come on What ho This beastly device looks vulnerable Can our heroes finally deal some damage to it Not as good as a stiff Earl Grey But never mind Magical drink Don't mind if i do Ok Check Sì, hai capito tutto. Sembra che è proprio così. Avanti! Ah! 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 un po' una volta ce la farò eh Perché tra scagnozze per terra E i colpi che tira lei Ce ne vuole Che palle Non no no ah ma mi è che fastidiosa che ok questo mi farà quanto piccola e perfettica i nostri piccoli i nostri piccoli Eeeh, c'ha pata, eh, ticche. Si rompe quello lì, no? No. Non crede, solo per caricare la cosa, vabbè. Ma forse se li vediamo. Ah già. Ehi là. Ehi là. Non mi interessa. Non mi interessa. E siamo al posto. Proseguiamo. Oh. 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 No. Ma che cazzo Vedete che ha troppo spostato dalla tasta Dai, bravissimo Beh, è la sua bestia Impaticamente è un boss aperto, interessante come l'hanno fatto Che cosa è questo? Una malattia, potremmo? Possessi i nostri eroi dapperti questo sinistro cazzo? Au Escappa Vai 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 Sì, bravo Amita Cato Cato Oh Slavermi Progetti la sua mistress Destruirai questi mortali interferenti Oh la la Maledetta, quante urli! Beh, però... Ti faccio malissimo dai vicino? Grande! Dai vicino è viciniale, questa metriatrice. Ma che cazzo sta succedendo? No, non avrei mai pensato che finisse così. No, ma mi sai che la fa fuori però. What? No, ma è stato... Così facile ucciderla. Allora, cosa pensi? Un piacere più tricoloso che l'occasione dell'idola di Tierra del Fuego? Oh, non mi ricordi. Io ancora non posso guardare un po' di bacon dopo quella. Parlando di cui... Ho lavorato abbastanza un appetito. Chi è hungry? Allora, devo dire che... Il gioco mi è piaciuto, ma questo livello è stato... Deludente secondo me, un po' sottotone decisamente. Ci sono stati i boss più belli, decisamente più belli. Questo che è stato... Vabbè, è semplice, ma è giusto così dato che ho scelto di farla facile. Però... Troppo semplice ecco, troppo corto... Vabbè, ok dai, non importa. Un finale deludente secondo me. Vabbè. Comunque carino, carino eh. Fatemi sapere cosa ne pensate. E come vi ho già detto vedrete anche le espansioni eh. Che sono appunto tre livelli presumo. Adesso guardiamoci i titoli di coda per rispetto di chi ha fatto questo gioco. Dato che ci ha lavorato dietro un bel po' di tempo. E fa l'altro anche un bravo team. Rebellion Games ha sempre fatto cose molto molto carine. Ha detto di essere a lavoro su Sniper Elite V2 Remastered. Per PlayStation 4 Xbox One. E Sniper Elite 5 anche. E forse anche un Sniper Elite in VR addirittura. Per cui tanta tanta roba. Cosa? 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 che altro? al di là del sottotono o meno troppo corto cavolo cos'è durato 15 minuti questo livello qua, 20 minuti e farla grande non lo so ho fatto troppo in fretta io forse c'erano altri passaggi da far aprire da meet non lo so papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Red Hot CG Chissà chi sono questi Red Hot Belle la tosse, belle Comunque ragazzi, che dire, è stato un bel gioco, sì, sì, in co-op sicuramente sarà più divertente Anche se vi ho già spiegato che ci sono dei difetti che non tollerò al momento E che probabilmente non tollererò mai il fatto dei loot, non con dei vici eccetera eccetera Vabbè, non mi garbano molto Ma vabbè, i soldi mettete che ancora ancora uno ci passa sopra Perché alla fine dopo che sbloccate le armi non ve ne fate più niente Però le pietre, ecco, per potenziare le armi Quelle lì dà a quanto fastidio che qualcuno magari vi anticipa ad aprire uno scrigno E vi frega le pietre, voi non ce l'avete Eh, anche perché non è che sono proprio tanto, tanto comuni Non è che ne trovate uno ogni due minuti Ne trovate siano 3-4 in un livello E un livello dura 40-45 minuti Per cui capirete che, insomma Vabbè Mi sa che è finita Missione completata Vediamo se c'è qualche sorta di titolo di post-coda Ma non credo Vuoi davvero uscire? Sì Ok Niente, è posto così per il momento Grazie e alla prossima Grazie a tutti